Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buono. grazie a tutti. 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 massa Hermanos. grazie a tutti. 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 tutti. a tutti. a tutti. tutti. a 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 tutti. tutti. a tutti. tutti. a tutti. a tutti. a tutti. tutti. a 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 tutti. ma è fatto a tutti. Non è che vada da 22. Al posto di ri... Sto inizio a destra. Sto inizio a destra. Dai, sti. Destra! Destra! Ma strano! Guarda, 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 guarda. Guarda, guarda, guarda! Aspettano, Monce, aspettano. Guarda! Guarda! è un po' difficile ora c'è, devi 5 euro, devi 5 euro, solo, solo, alza la testa eh, per prima di dare 5 in meno da quattro posti guarda che ci sono due terzini in alto, porto giù si? eh, vediamo un po' dai Carlo, cazzo vieni a prenderlo, tu eh eh, vabbè, eh no, però sbagliato palla, palla ha toccato la palla la palla di franca no, l'ha toccata con la mano, pochissimo ma l'ha toccata no, no, l'ha visto anche lui ha visto anche lui c'è il replay, c'è il replay se ha toccato la palla anche più oscurata è il mio prima bene, poi la rivediamo cazzo qua solo a me che se non l'ha toccata la palla dai Franzi dai da cena dai 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 c'è il Carlone, vedi, la prossima è tua c'è il Carlone fai sbloccare il Carlone prima per me la scala per me la scala per me la scala l'introge per me no, ma vedi per me no, peccato peccato eh, vabbè, voglio tirare peccato ho provato sotto la trovera fino a esce fino a esce oh 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 come il primo tempo gli abbiamo mangiato bravo 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 Jackie portate la scuola bravo vai cazzo sei l'ultimo uomo non va via fuori gioco bravo ferro fuori gioco fuori gioco fuori gioco non lo fai ma arrivo rientra fuori gioco dai 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 bravo, 10-2 bravo, 2-2 Niko! Niko! Eh? Eh? Eh, vuoi attirare a lui? Sei portiere? Sì! Massimo, tu hai fatto il goletto o no? Chiaro! Prima palla toccata! Eh, infatti non... Eh, quando riprendo non vedo bene lì! Dai, dai, dai! Bene, Massimo! Siste! Eh sì, infatti hai fatto un botto di assist! Sì, su quello... Hai fatto un botto di assist, no? Ah, lì! Oh! Oh! Eh... Tiro! 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 Piri! Viva! Sì. Uno, c'è due, bravo. Sì, c'è due. 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 C'è due. Sì, c'è due. Sì, c'è due. C'è due.